Io non ero più una barbina, ma non ero ancora una donna, e cosa facevo lì? Non capivo la lingua, non conoscevo nessuno, perché una volta passata lì su quella Judenrampe la selezione, io quando poi negli anni ho letto sui giornali, selezione del personale per la ditta dall'Italia, ma pensate dopo così tanti anni, 70 mi sono passati, ma io quando leggo selezione del personale oppure una trasmissione televisiva sui ricette di cucina o sui cantanti o sul ballo quando c'è la selezione, ma è uno sdoppiamento per me, perché per me la selezione è quella, tu sì, tu no, tu sì, tu no, e quello no va a morire, e tu sei scelta senza merito alcuno, io ero la più stupida, io ero la più, la meno furba, la più, la più, la più del meno che ero allora io, venne scelta per quel giorno lì rientrare viva il campo, 31 donne, ma quelle 605 persone che erano partite da Milano, non c'erano solo 31 donne, ce n'erano almeno la metà, erano donne, non erano tutte vecchie della casa di riposo di Venezia, Violetta, la Violetta del cacciaio di Varese, che poi era stata anche a San Vittore qualche giorno, indimenticabile Violetta, aveva 19 anni.